Incredibile! Hanno risolto il puzzle! È un tricheco! Quindi che cosa dobbiamo fare? Devono risolvere un indovinello per raggiungere il tesoro! Arr! Come faranno i pirate ad attraversare e raggiungere il tesoro? Il ponte non c'è più! I RACCONTI DI NASHA E adesso mangiate, piccolini miei! Anche se non siete più nuovi tra i miei giocattoli, siete i miei preferiti! Va bene, ho capito! Volete che vi racconti una favola? Scopri il divertimento! Ravensburger! Arriva Orsio! Occhio alle buche! E gioca col Mashup! Non mi schiava da d'acqua su! Lui si crede furbo, ma noi lo siamo di più! Ci attacca con le uova, ma una giungerà più lassù! Giocaglia, sfida la piavola, pingui, peniche, ringo, flamingo!